Che valore dai alle tue libertà? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per godere dei benefici della scienza e per il diritto alle cure. Perché tutti possano sognare di diventare genitori, anche con l'aiuto della ricerca e della medicina. Per rimuovere le barriere che ogni giorno incontrano le persone con disabilità e per essere liberi di scegliere, fino alla fine, con l'eutanasia legale. Dona il tuo 5 per 1000 alle libertà con l'Associazione Luca Coscioni. Scegli il 5 per 1000 per te. Grazie.